Questo cazzo di ponte che hanno ricostruito lo voglio descrivere adesso, guarda cosa crea questo cazzo di ponte qua, cosa crea? Un tappo, un tappo, quando io ne ho parlato con dei geometri si sono messi a ridere, guardate l'hanno ricostruito nell'altra luvione, a valle scorre e a monte il ponte fa da tappo, guardate cosa sta succedendo, guardate, il ponte fa da tappo, allucinante, ricostruito dopo l'alluvione, arrestateli tutti, arrestateli tutti, tutti